Salve a tutti ragazzi, oggi andremo a parlare del mio piccolo Joe, un piccolo ranciu che purtroppo non vede ed è cieco. Storia molto triste, perché non ha gli occhi. I ranciu neri, come tutti gli oranda, hanno una sorta di cappello chiamato Wen, che appunto ricopre la loro testa. I loro occhi vengono appunto inglobati da questo cappello e per questo non vedono niente. Per Joe infatti è molto difficile vedere dove si trova il cibo, abbiamo provato a nutrirlo con delle pinzette, però è molto difficile perché aspira solo l'acqua e non riesce a prendere il mangime. Inoltre purtroppo gli altri pesci, che ha tivoni, gli rubano il cibo perché appunto loro sono più svelti e ci vedono. Per questo iscrivetevi al canale per vedere molti più video e insieme ci prenderemo cura del nostro piccolo Joe. Alla prossima!